Buongiorno a tutti, sono Massimo Mazzaccara, business developer di D-Link. Benvenuti al D-Link Virtual Rouse Show 2020. Aspettiamo ancora un paio di minuti per i ritardatari e poi inizieremo con la presentazione. Grazie per essere presenti. Grazie. 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 Le telecamere di D-Link possono essere utilizzate in diverse situazioni. Qui vediamo un attimino un riassunto di quello che potrebbero essere gli utilizzi in abitazione, piuttosto che in negozio, in ufficio, ma sicuramente non possono essere utilizzate in ambito professionale, quindi all'esterno o per la sorveglianza del territorio. Però invece nelle altre tre situazioni, abitazioni, negozi, uffici, invece le telecamere di D-Link rispondono alle caratteristiche che di solito necessitano questi ambienti e quindi possono essere tranquillamente utilizzate. La soluzione IP delle telecamere di D-Link prevede tutte queste serie di telecamere che abbiamo visto prima, quindi dalle My D-Link, le Vigilance, le professionali e i sistemi di videoregistrazione dove poi si possono memorizzare le immagini. Qui vediamo come può essere un collegamento di un sistema di videosorveglianza. Questo è un sistema di videosorveglianza misto, quindi che utilizza telecamere di vario livello. Cosa partiamo? Partiamo da un NVR, un videoregistratore, in questo caso il DNR 2020-04P, che oltre a registrare le immagini è anche in grado di alimentare quattro telecamere direttamente in modalità POE. Lo vediamo in cui si mettono in quei quattro ingressi posteriori. Quindi qui colleghiamo le quattro telecamere. Poi c'è la possibilità di collegare un monitor, sia in modalità VGA che in HDMI, questo per avere poi la possibilità di visionare tutte le 16 telecamere collegate. Questo è un videoregistratore in grado di gestire fino a 16 canali IP. Ovviamente le telecamere non devono essere collegate direttamente al videoregistratore, ma possono essere anche attraverso un sistema di networking, quindi di switch, possiamo collegare altre telecamere, possiamo collegare altre postazioni remotizzate per la visualizzazione delle immagini stesse, sia in interno che in esterno, ovviamente, e possiamo collegandolo a un sistema modern router, collegare anche Wi-Fi le nostre telecamere MyD-Link. Quindi anche le telecamere MyD-Link, alcune telecamere MyD-Link, possono essere collegate ai nostri sistemi di registrazione e quindi possiamo anche avere la possibilità di avere degli impianti di videoregistrazione misti, costituiti da telecamere di diverso livello, quindi da telecamere professionali, Vigilas o le stesse MyD-Link. Poi attraverso il collegamento alla rete, ovviamente poi abbiamo la possibilità di visualizzare le immagini delle nostre telecamere anche da remoto, attraverso una postazione fissa con un PC, piuttosto che da un sistema mobile. La soluzione MyD-Link è in dettaglio, adesso andiamo a vedere. La prima cosa è che quando devo fare un impianto di videosorveglianza, la domanda che mi pongo è che cosa devo fare. lo devo utilizzare all'interno o all'esterno, deve essere sinergica al sistema di anti-intrusione, piuttosto che cosa devo controllare, persone, animali, luoghi. Devo avere la possibilità di comunicare con chi è dall'altra parte della telecamera. Devo poter registrare? Sì, come, la durata, ad evento. Quindi queste sono tutte domande che mi permetteranno poi di andare a scegliere, una volta che io so rispondere a queste domande, andranno a scegliere il prodotto migliore per quello che poi devo andare a realizzare. Che cosa mi serve? Ma per la soluzione MyD-Link sicuramente mi serve un sistema Wi-Fi. Sicuramente mi serve una presa di corrente in prossimità di dove dovrò andare a installare la telecamera. Un collegamento a internet, perché questo poi diventa fondamentale per poter guardare le telecamere da remoto. Uno smartphone, un tablet, per poterle effettivamente non solo guardare, ma scaricando l'app MyD-Link anche per poterle configurare secondo le mie necessità. Allora, cominciamo con la copertura Wi-Fi. La copertura Wi-Fi diventa fondamentale con le telecamere MyD-Link perché per la maggior parte le telecamere sono tutte Wi-Fi, anzi quasi esclusivamente Wi-Fi, quindi senza la possibilità di collegare il cavo. Qualche modello invece è ovviamente ibrido, quindi sia con la possibilità del cavo che del Wi-Fi. Quindi diventa fondamentale la copertura del Wi-Fi per permettere un utilizzo delle telecamere stesse tranquillamente all'interno del luogo in cui devo andare a installare. Il secondo aspetto molto importante nella scelta della telecamera è l'apertura dell'obiettivo, o meglio, a seconda dell'ambiente che devo andare a videosorvegliare, nelle posizioni in cui potrò andarlo a posizionare, perché come abbiamo detto serve una presa di corrente, quindi non può essere lasciato a libero arbitrio, ma dovrò anche fare conto con un discorso fisico di dove poter andare a posizionare la telecamera, è l'apertura dell'obiettivo. Ci sono telecamere che arrivano fino a 180 gradi, e quindi posizionandolo su un lato della nostra stanza, abbiamo la possibilità di vedere completamente la stanza stessa con un'unica telecamera, tra l'altro. La possibilità di poter visionare da remoto, quindi attraverso l'app MediLink, che è un'app gratuita, che mi permette di andare a selezionare telecamere, verificare le immagini registrate, e tutto quanto è possibile con tutti gli altri oggetti smart che MediLink mette a disposizione. Le telecamere MediLink poi sono compatibili con i sistemi di Amazon Alexa e di Google Assistant, e l'app MediLink è scaricabile sia per i sistemi iOS che Android. La memorizzazione delle immagini di telecamere MediLink può essere fatta per tutte in ambito cloud, e per alcuni modelli anche su SD card posizionate all'interno della telecamera, piuttosto che ai sistemi di registrazione di link o di terze parti. E comunque tutti questi poi possono essere ovviamente visionati sia da remoto che da locale, a seconda della scelta che abbiamo deciso di fare per la registrazione delle immagini stesse, ovviamente. Andiamo a vedere alcune caratteristiche principali delle nostre telecamere. Le nuove telecamere MediLink supportano il sistema di sicurezza WPA3, che è il nuovo sistema definito per l'ambito del Wi-Fi sulla sicurezza dell'accesso contro eventuali attacchi hacker degli oggetti che vanno in Wi-Fi. Il sistema WPA3, che è dal 2018, che è stato praticamente rilasciato e implementato su tutti i nuovi modelli, permette di avere praticamente una sicurezza maggiore anche quando la password dell'utente non è poi così forte, diciamo strong. Quindi è un sistema che permette anche all'utente meno specializzato di essere quasi sicuro di aver messo una password che non viene tranquillamente bypassata da un'eventuale hacker. Le nuove telecamere MediLink, quelle che sono appena uscite e quelle che usciranno, supportano tutte quante lo standard ONVIF profilo S. L'ONVIF è uno standard industriale utilizzato per interagire con le telecamere IP affinché possano comunicare fra sistemi di diversi vendor. Quindi su un videoregistratore di D-Link potranno essere registrate le telecamere D-Link ma anche telecamere di terze parti e viceversa. Quindi su un videoregistratore di terze parti potranno essere registrate anche le telecamere D-Link. L'intelligenza artificiale. Ecco, qui cominciamo a vedere che le nuove telecamere MediLink hanno all'interno un sistema di intelligenza artificiale, di video analisi intelligente, che mi permette un rapido controllo delle immagini per un miglior controllo e maggior precisione negli allarmi. Quindi cosa vuol dire? Che queste telecamere che sono identificate dal simbolino della faccia umana con il cervellino e le due lettere AI hanno un aumento delle funzionalità legate al motion detection con delle funzionalità ben precise che adesso magari andiamo a vedere più nel dettaglio. Movimento di una persona. Questa praticamente è una funzionalità che permette di andare a rilevare il movimento di una persona e riconoscere se il movimento è di un corpo umano piuttosto che di altri oggetti che potrebbero rilevare un movimento. Questo cosa comporta? Comporta che se il sistema è in grado di andare a rilevare che il movimento effettuato è quello veramente di una persona, andrà a eliminare tutti quei falsi allarmi che invece con un motion detection classico avrebbero generato un allarme. Per esempio, nelle vecchie telecamere bastava il cambiamento della luce piuttosto che il movimento di un animale domestico e quant'altro. Con questo sistema di rilevamento invece lui va a analizzare il corpo umano. Lo fa in due modalità, uno analizzando tutto il corpo, quindi dal ginocchio fino alla sommità della testa o metà corpo dalla vita alla sommità della testa. Quindi lui in questo caso è in grado di capire se il movimento che viene generato è fatto da un corpo umano e quindi nel caso in cui ci sia esito positivo su questo tipo di controllo fa scattare l'allarme. Abbiamo alcuni ambiti di rilevamento che bisogna tenere presenti ovviamente. Il rilevamento dell'interimmagine è la cosa migliore, la distanza suggerita ottimale è intorno agli 8 metri e evitare che nella stanza dove viene posizionata la telecamera ci siano degli oggetti a forma umana oppure molti oggetti in movimento perché questo comunque andrebbe a dare fastidio al sistema di rilevamento e quindi comunque potrebbe causare dei falsi allarmi. Progettarsi una zona di rilevamento. Quindi in questo caso il sistema mi permette, la telecamera mi permette di andare a creare una zona specifica rettangolare e andarmi a segnalare quando un oggetto, una persona, entra o esce completamente dall'area evidenziata. L'esempio classico che viene anche riportato nell'immagine è quella del bambino che è all'interno del suo box. Nel momento stesso in cui il bambino scavalca e fugge per la sua cameretta l'area rimane vuota rispetto a prima che c'era un movimento e quindi immediatamente viene segnalato un allarme a chi di dovere e quindi la mamma può correre immediatamente e vedere cosa è successo. L'altra modalità è che l'utente può disegnare una striscia, una riga, una divisione come possiamo vedere nell'immagine fra un locale e l'altro locale e in questo caso nel momento stesso in cui un oggetto, una forma umana si muove completamente da un lato all'altro della mia in questo caso viene segnalato l'errore. Quindi è bidirezionale e la segnalazione viene fatta sia in un senso che nell'altro. Ultima ma non ultima è la possibilità di poter fare delle multi zone come in questo caso prima nei vecchi sistemi di motion detection la zona era unica e quindi avevo la possibilità di integrare tutte e tre per esempio le finestre che vediamo nella fotografia ma era un'unica zona. In questo caso invece le zone possono essere divise devono avere comunque forma rettangolare e possono anche sovrapporsi quindi non è la necessità che devono assolutamente essere separate fra di loro. Però abbiamo la possibilità veramente di andare a definire le zone dove ci interessa il movimento e far scattare l'eventuale allarme soltanto in quelle zone lì. Questo mi sembra una crescita delle funzionalità di motion detection per le telecamere MediLink decisamente notevole. Ecco come si diceva le funzionalità di intelligenza artificiale sono queste quattro però non in tutte le telecamere sono presenti tutte e quattro solo su alcuni modelli sono presenti tutte e quattro invece su altri no. Poi ci sono altre funzionalità che poi adesso magari andando a vedere nel dettaglio delle singole telecamere avremo la possibilità di poter scegliere sulla base delle domande che ci siamo posti all'inizio di scegliere il modello che meglio si aggrada alle nostre necessità. I sistemi di memorizzazione dell'immagine abbiamo visto prima che le telecamere possono anche essere memorizzate sui sistemi di NVR quindi questi sono tre modelli di videoregistratore che DiLink mette a disposizione che riescono a gestire nove canali o sedici canali di due modelli sotto la differenza sostanziale cos'è va bene la dimensione ovviamente ma soprattutto nella possibilità di poter agganciare un video e quindi vedere le immagini direttamente dal videoregistratore piuttosto che dover arrivare da un sistema esterno quindi da una interrogazione di aware oltre ai sistemi hardware abbiamo la possibilità di andare a utilizzare dei software dei software che si chiamano DCS250 piuttosto che DCS260 la differenza sostanziale fra questi due software che uno ha determinate funzionalità ed è a pagamento ma viene soprattutto utilizzato in ambiti professionali e poi il DCS260 che invece è assolutamente free gestisce fino a 32 telecamere e quindi mi permette di poter gestire le registrazioni delle mie telecamere per le telecamere MediLink oltre alla classica registrazione su schedine SD per le telecamere che hanno la possibilità di poterle integrare o eventualmente per i modelli che sono compatibili con il sistema OnVif S e quindi poter registrare sui sistemi di videoregistrazione hardware c'è anche la possibilità di registrare su cloud tutte le telecamere MediLink che vengono riconosciute da una lettera finale in due lettere LH hanno la possibilità di registrare le immagini su cloud quindi cosa succede una volta che ho scaricato l'app MediLink sul mio mobile una volta che ho fatto la registrazione una volta che ho registrato le telecamere una volta che ho implementato il mio impianto posso decidere se registrare le immagini di queste telecamere in cloud come andando a selezionare un piano e a quel punto lì comincerà in automatico la registrazione delle immagini attualmente noi abbiamo quattro piani di riferimento di registrazione delle immagini ci sono il free il basic il premium e il pro il free è gratuito come dice la parola stessa cosa mi permette di fare mi permette di registrare fino a tre videocamere e i video registrati dalle telecamere vengono conservati per un giorno il modello il modello basic invece è quello che mi permette di conservare sempre per tre telecamere ma le immagini vengono conservate per sette giorni poi abbiamo il modello premium che è quello che devo dire in assoluto quello più utilizzato quello il più gettonato che è quello che mi permette di conservare per quattordici giorni le immagini delle mie cinque telecamere quindi fino a cinque telecamere avrò la possibilità di conservare le immagini per quattordici giorni poi c'è il modello pro che questo magari viene utilizzato soprattutto per chi utilizza telecamere MediLink in situazioni legate agli uffici ma soprattutto ai negozi dove i video vengono conservati per trenta giorni e posso memorizzare i miei video per trenta giorni fino a dieci telecamere quindi fino a dieci telecamere potranno registrare in cloud e i video conservati per trenta giorni l'importo che vedete 2,49 euro per il basic 4,99 euro per il premium il 9,99 per il sistema pro sono l'importo mensile che viene richiesto per poter usufruire di questi servizi nel caso in cui si voglia fare l'abbonamento annuale di Link opera uno sconto pari a due mensilità quindi cosa vuol dire che il programma basic fatto per l'anno costerà 24,90 quindi 2,49 euro per dieci mesi perché gli altri due mesi sono gratuiti regalati da The Link quindi lo stesso per premium 49,90 e identico discorso per la soluzione pro che sarà 99,90 adesso andiamo a vedere in dettaglio le telecamere MyD Link quindi le andremo a vedere i vari modelli con le varie caratteristiche questo mi permetterà a questo punto di rispondere alle domande che ci siamo posti all'inizio e quindi di andare a scegliere la telecamera migliore secondo le necessità che devo andare a ricoprire qui abbiamo la telecamera DCS8000LHV2 è una telecamera che è molto piccola perché stiamo parlando di 9,5 cm di altezza per un paio di centimetri del diametro è una telecamera molto compatta appunto che ha un angolo di visualizzazione di 138 gradi e una qualità di video full HD ha una visione notturna integrata fino a 5 metri è in grado di rilevare quindi anche questa è una telecamera da intelligenza artificiale è in grado di rilevare il movimento umano con un viso istantaneo della notifica quindi delle quattro funzionalità che abbiamo visto dall'intelligenza artificiale questa telecamera ha quella legata al movimento questa telecamera come si diceva è una delle telecamere che possono essere registrate anche sui sistemi NVR grazie alla compatibilità con la codifica ONVIF DCS 8100LH questa è una telecamera MyDlink una delle primissime telecamere MyDlink della nuova serie in questo caso la telecamera ha il grosso pregio di avere un angolo di 180 gradi e soprattutto la caratteristica di questa telecamera è che si può muovere sui tre assi e quindi nel momento stesso in cui viene posizionata io sarò sempre in grado di andarla posizionare nella posizione migliore in quanto la telecamera oltre a ruotare a 360 gradi sulla sua base è in grado di alzarsi quindi di imporsi a 90 gradi rispetto alla base e la stessa parte ottica poi può ulteriormente ruotare di 360 gradi quindi veramente nel momento stesso in cui l'ho posizionata anche se magari non ho scelto la posizione migliore come posizionamento però sono in grado di andare a regolare in maniera tale di avere una visione che interessa a me e poi sicuramente avvantaggiata dal fatto di avere un angolo di 180 gradi e quindi mi permette di vedere tutta la stanza posizionandola sul lato direttamente questa telecamera rispetto a quella di prima che ad esempio non aveva ha la possibilità di inserire una schedina micro SD nel suo slot la schedina può avere massimo 256 gigabyte di spazio disponibile per registrare le immagini che io decido di farlo su movimento o su evento questa telecamera ovviamente anche lei può essere registrata in cloud questa è la telecamera l'8602 è una telecamera da interno esterno questa è la caratteristica di essere di poter essere collegata sia attraverso il wifi come tutte le telecamere MediLink ma in questo caso questa telecamera è anche in grado di essere connessa attravesso il cavo vedete nella terza fotografia nella terza foto in basso che c'è proprio l'ingresso dell'RJ45 di fianco a dove si entra con l'alimentazione quindi per poter essere collegata via cavo nella foto invece di sinistra vedete la fessura dove si deve inserire l'eventuale schedina micro SD per la registrazione on site delle immagini anche questa telecamera ha una full HD fino a 30 frame per secondo anch'essa ha la visione integrata notturna quindi con gli infrarossi che sono in grado di andare a illuminare l'area fino a 5 metri per la visualizzazione delle immagini questa è una telecamera da esterno vedete che gestisce i meno 20 più 45 però si consiglia un'installazione sia all'esterno ma comunque protetta quindi non direttamente all'intemperio quindi si prende direttamente l'acqua potrebbe avere dei problemi però invece se fosse protetta da una tettoia e quant'altro è perfetta perché non ha non ha problemi sulle temperature qui invece guardiamo la telecamera la DCS8325LH questa è l'unica telecamera come abbiamo visto prima nella tabella riassuntiva dell'intelligenza artificiale è l'unica telecamera che ha tutte le funzionalità di intelligenza artificiale a bordo quindi le quattro la possibilità del movimento della persona superamento della riga l'abbandono dello spazio definito e delle aree delle multi aree di detenzione del movimento questa è una telecamera che è in grado di gestire tutte e quattro le funzionalità di intelligenza artificiale è una telecamera da interno è una telecamera che ha un angolo di visione di 150 gradi full HD anche la micro la SD micro con possibilità di essere integrata a bordo di 256 giga ovviamente supporta la scrittografia VPA3 ed è compatibile con i sistemi di registrazione NVR proprietari di link o di terze parti DCS 8515LH questa qui è una telecamera particolare rispetto a quella che abbiamo visto prima perché tutte le telecamere che abbiamo visto prima erano telecamere che posizionate nella posizione in cui si andava a decidere di montarle poi riprenderanno sempre ed esclusivamente quello che hanno davanti a loro per essere ripreso questa telecamera invece l'8515 ha il grosso vantaggio che è una pan tilt quindi è in grado di muoversi in orizzontale e in verticale con una rotazione di 340 gradi in orizzontale e di 105 in verticale ma l'altra cosa interessante è che questo tipo di telecamera fa l'auto tracking quindi nel momento stesso in cui interviene nel suo angolo di visualizzazione un movimento questa telecamera si muoverà seguendo il movimento della persona stessa per esempio quindi se io mi inquadro posiziono la telecamera in modalità statica al primo momento sulla porta di ingresso nel momento stesso in cui io entro nella porta di ingresso la telecamera rileva il movimento mi intercetta e quindi mi segue e mi segue nel mio spostamento finché sono nel suo campo visivo questa telecamera ha una qualità video di 720 quindi un HD non è un full HD ha il vantaggio di avere il microfono bidirezionale quindi sono in grado di parlare e di ascoltare con le eventuali persone presenti davanti alla telecamera e anche se stanno dicendo gestisce la schedina micro SD in questo caso può registrare quindi le immagini di questa telecamera soltanto su micro SD o su cloud quindi questa telecamera non è abilitata a funzionare con sistemi di terze parti di videoregistrazione telecamera DCS8525LH questa telecamera è paritetica a quella che abbiamo visto prima ma con il discorso che non ha la possibilità di seguire la persona quindi non ha l'auto tracking è in grado di muoversi ma ci deve essere l'operatore quindi siete voi che attraverso la vostra app potrete selezionare l'angolo sia verticale che orizzontale per dove si vuole guardare tipicamente viene utilizzata ad esempio negli appartamenti vado a inquadrare un'area però sono in una stanza molto grande e quindi a quel punto muovendola vado a cercare l'eventuale per esempio animale domestico dove si è nascosto il gattino il cagnolino con questa telecamera ho la possibilità di andarlo a navigare l'altra grossa differenza rispetto alla telecamera che abbiamo visto prima è che questa telecamera può essere connessa anche tramite il cavo quindi oltre a funzionare dal punto di vista wifi può essere connessa anche tramite il cavo attenzione tutte le telecamere che abbiamo visto che possono essere connesse anche col cavo necessitano tutte comunque di un'alimentazione quindi ho comunque bisogno di una presa di corrente elettrica per alimentare le telecamere affinché funzionino 8526LH è l'evoluzione dell'8515 quindi abbiamo la possibilità anche in questo caso quindi abbiamo la telecamera che si muove sull'angolo di 340 100 gradi verticale orizzontale un angolo di visione di 138 gradi ha l'autotracking quindi in grado di muoversi la differenza rispetto all'8515 che è l'8526LH può essere connessa anche tramite il cavo quindi è praticamente il connubio la somma fra le due telecamere che abbiamo visto prima con tutti i vantaggi delle telecamere questa telecamera come vediamo anche dai simboli gestisce l'elevamento della persona quindi è in grado di censire se il movimento che potrebbe causare l'allarme è stato generato da una persona o da un altro oggetto in movimento questa può essere registrata su sistemi di NVR quindi hardware la telecamera di CS80006LH questa è la prima telecamera che può essere posizionata all'esterno anche anche direttamente dagli eventi atmosferici quindi sotto l'acqua direttamente e quant'altro questa telecamera wifi esclusivamente wifi ha un angolo di visualizzazione di 135 gradi ha una particolarità perché per essere posizionata io dovrò andare soltanto a posizionare quel supporto magnetico che vedete in fotografia quindi attraverso due viti lo potrò posizionare dove voglio e poi la telecamera si andrà in modalità magnetica ad attaccare al supporto al supporto e a quel punto potrò spostare la telecamera nella direzione che meglio mi aggrada che meglio ricopre le aree che devo visualizzare dal punto di vista della sicurezza dello spostamento questa telecamera l'abbiamo provata ultimamente ahimè anche con trombe d'aria e quant'altro e la telecamera posizionata non si muove quindi il supporto magnetico veramente è come se fosse fisso una volta posizionato la telecamera non si muove dalla posizionamento in cui l'abbiamo deciso di metterla questa telecamera può essere registrata le immagini riprese da questa telecamera possono soltanto su scheda microSD che si può inserire a bordo della telecamera stessa o su cloud un'ulteriore telecamera da esterno molto interessante è la DCS8627LH questa telecamera ha un paio di caratteristiche veramente importanti ma prima di tutto è una telecamera IP65 quindi la possiamo tranquillamente mettere all'esterno senza nessun tipo di problema la seconda è che ha uno spotlight di 400 lumen che può accendersi al momento in cui viene rilevato un movimento ovviamente questa luce si può si può regolare quanto tempo deve rimanere acceso una volta che è stato registrato un movimento e questo mi illumina veramente a giorno l'aria da riprendere questo vuol dire che di notte nel momento stesso in cui si accende il faro la ripresa non è più soltanto con gli R e quindi in bianco e nero ma le riprese delle immagini possono essere riprese a colori quindi ho una ripresa dell'immagine a colore cosa che invece di notte di solito come soltanto con gli impianti che utilizzano gli infrarossi le immagini sono sempre in bianco e nero questa invece ha la possibilità di avere l'immagine a colori grazie al faro di 400 lumen che è posizionato in alto anche essa si può inserire la schedina micro sd con 256 gigabyte questa telecamera è compatibile con un home vfs e quindi in grado di essere registrata su sistemi di registrazione esterni ha la gestione del movimento basato sull'intelligenza artificiale quindi riconosce il corpo umano un'altra cosa interessante di questa telecamera che è dotata di un sensore PIR per intenderci i sensori PIR sono quelli che sono presenti nei sensori degli impianti d'allarme e quindi è in grado di registrare il movimento attamente accurato quindi è molto più preciso nel sentire se c'è un movimento nel suo raggio d'azione fino adesso abbiamo visto tutte le telecamere che si collegano in wifi qualcuna si collega anche attraverso il cavo il cavo IP quindi un RJ45 poi invece abbiamo una telecamera completamente diversa questa è una telecamera a batteria quindi cosa vuol dire che questa telecamera non ha bisogno di essere alimentata perché nel momento stesso in cui le batterie sono cariche può essere posizionata in qualunque punto sia interno che all'esterno anche se sono IP65 per riprendere l'area dove magari in zone dove non esiste la corrente elettrica queste sono telecamere che hanno la batteria interna quindi non vanno sostituite le batterie ma vanno ricaricate e sono comunque batterie di lunga durata noi un modello che abbiamo installato in ufficio nella nostra sala demo con un utilizzo abbastanza limitato diciamo con 1 barra 2 accessi giornalieri per vedere il funzionamento della telecamera e le batterie sono durate più di 14 mesi quindi noi per 14 mesi non abbiamo dovuto ricaricare la batteria è altresì chiaro che nel momento stesso in cui io invece l'utilizzo della telecamera soprattutto in in allarme cioè quindi che la telecamera entra spesso in allarme e quindi va a registrare le immagini piuttosto che in consultazione ovviamente tutto questo va a far decadere la durata della batteria e quindi a quel punto non c'è una durata minima garantita dipende tantissimo dall'uso che ne vada a fare noi vediamo questo è un kit di partenza il kit base che viene proposto da D-Link che prevede un hub e due telecamere l'hub deve essere collegato al nostro sistema al nostro modem router di casa attraverso un cavo l'hub ha integrato al proprio interno anche la possibilità di agganciare attraverso una porta usb un hard disk esterno piuttosto che una schedina una schedina sd che viene sul lato possono memorizzare l'immagine questo praticamente è il sistema che mi permette di mettere in comunicazione le mie telecamere con la mia rete perché queste telecamere sono sì wifi ma utilizzano un sistema di wifi proprietario che si mettono in comunicazione attraverso l'app questo vuol dire che queste telecamere non mi vanno a mangiare il mio wifi interno che ho a casa ma sono sul loro wifi proprietario che quindi va parallelamente a quello che abbiamo in casa ogni sistema di app può collegare contemporaneamente fino a 4 telecamere quindi nel momento stesso in cui io avressi la necessità di dover inserire una quinta una sesta una settima telecamera dovrei dotarmi di un ulteriore hub ovviamente le telecamere non sono legate fisse a un singolo hub ma possono essere comunque se voglio cambiare l'hub si è rotto l'hub cambio l'hub le telecamere possono essere prese e spostate a un altro hub quindi senza nessun tipo di problema senza nessun vincolo il vincolo dell'hub che è necessario per integrarsi con le telecamere e che l'hub riesce a gestire fino a 4 telecamere quindi più di 4 telecamere devo mettere un altro hub anche queste immagini delle telecamere a batteria possono essere registrate in ambito cloud qui vediamo un attimino il posizionamento di tutte le nostre telecamere sia a livello di performance e di prezzo quindi vediamo quali sono le telecamere in che fascia sono posizionate le telecamere ovviamente le telecamere a batteria sono un po' fuori categoria perché sono un sistema completamente diverso rispetto a tutte le altre e hanno un utilizzo decisamente diverso rispetto a una classica telecamera perché è vero che la telecamera ha batteria di lunga durata però comunque devo utilizzarle in una determinata maniera cioè ricordarmi che comunque c'è una batteria che ogni tanto deve essere caricata anche se da questo punto di vista il sistema mi viene sempre in aiuto perché l'app nella telecamera specificatamente sulla telecamera mi dice lo stato della batteria che a un certo punto mi avvertirà attenzione batteria bassa va ricaricata quindi anche se mi distraggo perché per tanto tempo non ho dovuto ricaricare e quant'altro però c'è il sistema che mi ricorda questa eventualità di doverla ricaricare ogni tanto l'app l'app mydlink giusto abbiamo parlato di questa app mydlink l'app mydlink è fondamentale quindi è uno dei requisiti che devo assolutamente ricordarmi di scaricare prima di andare a implementare un impianto di videosorveglianza mydlink perché nell'app mydlink io avrò tutte mi servirà per registrare le telecamere per configurarle anche la parte legata all'intelligenza artificiale scusate l'intelligenza artificiale quindi con l'app mydlink diventa fondamentale che ci sia diventa fondamentale l'utilizzo perché permette la configurazione delle telecamere stesse anche soltanto l'integrazione con Amazon Alexa o Google Assistant il nome che andrò a definire alla telecamera sarà quello del nome che poi io andrò utilizzando i comandi vocali di questi due oggetti che mi permetteranno di interfacciarmi con le mie telecamere quindi piuttosto che lasciargli un nome tipo DCS 886 27 LH meno D42 8 che magari diventa abbastanza complesso chiamarla telecamera soggiorno diventa molto più comodo anche per la gestione prodotti a corollario abbiamo detto che le telecamere per la maggior parte sono wifi e non sempre il wifi all'interno di dove devo andare installare le mie telecamere è perfettamente distribuito è perfettamente uniforme all'interno dell'appartamento del negozio dell'ufficio cosa posso utilizzare posso utilizzare dei range extender o dei access point da presa elettrica quindi questi sono degli oggetti che mi permettono di espandere il mio segnale wifi in maniera tale che se per esempio nella camera dei bambini non prende molto bene ma io voglio metterci la telecamera perché voglio vedere il bambino quando dorme mentre guarda la televisione ecco che con un DAP per esempio il 16-20 posso risolvere questo problema perché aumenterò stenderò il segnale wifi e quindi la mia telecamera prenderà senza nessun tipo di problema attenzione che questo è un extender quindi non rigenera il segnale mi estende quello che trova quindi se un segnale è molto basso è molto sporco mi estenderà un segnale sporco quindi quello che si consiglia è sempre di utilizzarlo in una modalità in cui il segnale nel punto in cui viene posizionato è abbastanza buono cambiare il modern router perché magari il modern router che mi ha fornito l'operatore telefonico adesso che poi il fatto che si può tranquillamente scegliere il proprio modern router senza dover prendere necessariamente quello della telco potrebbe essere una soluzione perché questi sono due ottimi prodotti a seconda del tipo di collegamento che ho in casa come esempio il DVA5593 che supporta tutte le tipologie di connettività che possono esserci in un appartamento è un wifi AC2002 quindi molto ampio e quindi in grado di supportare anche un numero elevato di componenti contemporaneamente quindi anche un numero di telecamere elevato è in grado di supportarlo senza però andare a battere poi le performance naturali come per esempio se il mio figlio gioca alla Playstation e gioca in wifi ahimè se non c'è il segnale wifi chi lo sente piuttosto che invece modalità tipiche del 3G 4G quando vengono utilizzate queste modalità quando magari la mia videosorveglianza la metto nella seconda casa al mare una seconda casa dove non ho un collegamento a internet ed ecco che questi oggetti vengono in nostro aiuto poi a questo punto andrò a scegliere quello che più si aggrada alle mie necessità che mi permetteranno comunque di rimanere connesso le mie telecamere quindi di visionare le immagini le registrazioni e quant'altro anche in località dove non ho fatto un collegamento a internet standard questo forse andava prima ma fa niente perché visto che parliamo soltanto di router voglio mantenere il modern router perché magari ho una connettività con una telco che fa satellitare tipo viene in mente eolo però il router di casa io voglio un router potente voglio un router performante quindi sconnetterò quello che passa all'operatore e metterò un router con delle caratteristiche più elevate per esempio qui vediamo nella fascia alta dove ci sono i nuovi router della serie wifi 6 con delle performance decisamente superiori rispetto a quelli che sono i vecchi classici router anche se comunque la serie C aveva già un'ottima performance ma con il router del wifi 6 stiamo parlando di performance che migliorano di 3-4 volte rispetto a quelli dei vecchi router piuttosto che andare a utilizzare dei kit di powerline questo mi permette di tirare un cavo virtuale sfruttando la rete elettrica quindi magari la tipicamente devo connettere la telecamera sul balcone non mi arriva il wifi perché ci sono i muri molto spessi però mi arriva una presa di corrente ecco che io metto un powerline uno vicino al modem router l'altro vicino alla telecamera magari metto quello con la presa passante ed ecco che io collego la mia telecamerina direttamente nella presa che vedete sul P601 quindi non mi brucia la presa di corrente io avrò collegato la mia telecamera tramite tramite un powerline direttamente al mio sistema piuttosto che con la nuova tecnologia cover questa che sfrutta la tecnologia mesh che praticamente vado a realizzare una rete wifi in tutta la casa unica alla quale poi le mie telecamere si potranno andare a agganciare ovviamente non solo le telecamere ma anche tutti gli altri i miei strumenti che si utilizzano nella quotidianità io vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato nel caso in cui ci siano domande sono qui a vostra disposizione nel frattempo vi farei vedere un video proprio che è legato alla videosorveglianza ma è di link realizzato da noi dovete cliccare sulla finestrella che si è aperta che si è aperta Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.